Hello Wonderwood People! Today's tutorial is inspired by the Smurfs! Ciao Wonderwooddini, il tutorial di oggi inspirato ai Puffi! I started to move the little head of Papa Smurf. Ho iniziato a dare forma alla testolina del grande Puffo. E ho cominciato a delineare di più dettagli. His little ears mi si è riquetti. E ovviamente, la sua bianchissima barba. Per texturizzare la barba ho usato una secca. I modelled with his little hands. Ho modellato le sui manine. And his red pants e i suoi pantaloni rossissimi. Lastly, I molded his hat. Infine, ho modellato il suo cappello. And I added some little crinkles here and there. E ho aggiunto un po' di pieghette qui e lì. Pappa Smurf and me will to thank you for watching. We hope you enjoyed this tutorial. Io e il Grande Puffo vi ringraziamo molto per la visione. E speriamo che questo tutorial vi sia piaciuto. That's all for today. If you like this video, share, comment and leave a thumbs up. Check out the infobox to know more. See you at the next tutorial. Cheers! Per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto condividete, commentate e lasciate un pollice in su. Date un occhio all'info box per saperne di più. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao! Ciao!